Il prossimo brano, non lo so maestro se ce l'ha messo proprio perché, per evitare che si addormentino, è un'aria famosissima, Nessun dorma. È una celebre romanza per tenore dalla Turandò di Giacomo Puccini. È intonata dal personaggio di Calaf all'inizio del terzo atto, immerso nella notte di Pechino in totale solitudine, il principe ignoto attende il sorgere del giorno, quando potrà finalmente conquistare l'amore di Turandò, la principessa di ghiaccio. Mi raccomando, non addormentatevi, Nessun dorme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.